Le due partite con Fiorentina-Inter erano state tremende, non tanto per il gioco espresso che secondo me era stato all'altezza tipo stasera, in quanto per il risultato. Stasera ci siamo ripresi tutto con gli interessi, facendo una grande prestazione, sia di gioco che di carattere, perché siamo rimasti in 10 per 25 minuti contro una squadra forte. Non abbiamo rischiato nulla, squadra veramente con gli addirputi, sono strafelice di avere un gruppo così che si mette a disposizione. Abbiamo gente fuori tra le altre cose, numericamente eravamo un po' all'osso, però chi ha giocato ha fatto il suo. A me piace quando c'è questo spirito, quando c'è questa voglia di sudare, di lottare la maglia e di esprimere anche il calcio, perché noi sappiamo giocare anche a calcio. Le è piaciuto di più l'aspetto proprio del bel gioco espresso prima dell'espulsione o la grande compattezza del gruppo che ha permesso di portare a casa la vittoria dopo il rosso di Avaghe? Beh, entrambe le cose. Intanto a me piace quando la squadra gioca a calcio, mi piace arrivare il risultato attraverso queste cose qui, insomma mettendo palla a terra, facendola girare, non abbassandosi, aggredendo. E l'abbiamo fatto molto bene. È l'unico cruccio, è l'unica pecca, come diciamo da un po' di settimane, è non chiuderle queste partite perché se le lascia aperte poi c'è sempre la sorpresa. Quindi abbiamo dimostrato di sapere giocare bene al calcio, ma allo stesso tempo abbiamo dimostrato di avere anche artigli e unghie e quando c'è stato da difendersi anche bassi, perché purtroppo eravamo un in meno, l'abbiamo fatto con ordine. È una squadra che ha raccolto tanto in trasferta, nei buoni propositi del 2016 c'è quello di magari portare a casa ancora più punti anche al Friuli? Sì, lo dobbiamo ai tifosi che ringrazio anche oggi per la loro presenza, ci sono sempre, questo mi fa veramente grande piacere perché i tifosi dell'Udinese sono particolari, ci sono sempre, si fanno sentire, ti sostengono, non sono invadenti, che è una grande cosa per chi fa questo mestiere. Ti osservano le cose in silenzio, stanno lì, osservano tutto, guardano, però sanno stare sempre al loro posto e quando c'è da incitarti ti incitano, se c'è poi da farsi sentire si fanno anche sentire come è giusto che sia, perché se poi la domenica non fai una partita fatta bene e qualcuno ti fischia o ti dice qualcosa è giusto che questo avvenga, però lo fanno sempre con molta educazione. E questa è merce rara nel nostro calcio in Italia, per cui li ringrazio di cuore e gli faccio a loro tantissimi auguri, ringrazio i ragazzi che c'erano qui, non so quanti erano stasera, saranno stati un centinaio, forse duecento, che sono venuti a sostenerci, li ringrazio di cuore, così come ringrazio tutti quelli che comunque anche con l'Inter fino all'ultimo ci hanno dato una grande spinta. Mi auguro per loro e per noi specialmente che nel 2016 potremo raccogliere molto di più di quello che abbiamo fatto in questi primi sei mesi, ma sono convinto che questo avverrà.